Nella 17esima edizione della Valli Bergamaschi Revival 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 Grazie a tutti 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 sono imperdonabile, d'altronde la pronuncia me l'ha data il buco, pulati. Secondo classificato Luca Murer e si porta via il trofeo Gino Reguzzi della 17esima edizione della Valli Bergamaschi Revival, Luca e Stefano Passeri e quindi grazie a tutti, voglio ringraziare chi ci ha sostenuto, gli sponsor, tutti quelli che hanno lavorato il motoclub Bergamo, le scuderie, tutte le sezioni, tutti quelli che facevano gli sbandierini i sindaci della Valle, il sindaco di Bergamo, l'assessore Milvo Ferrandi, tutti